La società di tecnologia medica ha una lunga tradizione molto precoce di gestione delle informazioni attraverso modelli di riferimento e attraverso modelli relativi all'appropriatezza delle prestazioni che per noi è essenziale per prevenire lo spreco e per prevenire esami che non sono appropriati alla ricerca di diagnosi. Quindi noi siamo sicuramente disponibili a mettere a disposizione il nostro bagaglio di conoscenze e a scambiare con le altre società scientifiche come in realtà già facciamo da parecchio tempo le informazioni necessarie a fare in modo che l'intervento sanitario sia sempre appropriato e sempre mirato nella direzione nella quale fornisce un supporto essenziale per i pazienti, per la salute dei pazienti. Grazie a tutti.